...europea, che assieme al centro CDE, che è un altro centro di informazione, fa parte di una rete europea che costa di circa, complessivamente siamo dicendo, 800 centri sparsi in tutte le regioni europee. Noi stiamo cercando di mettere in pratica quanto ha proposto il Parlamento europeo con un'iniziativa che ha chiamato Stavolta Voto. Forse qualcuno di voi in televisione o sui social o su internet ha sentito questa frase in questi giorni.